La scoperta è stata fatta questa mattina dai bidelli e dagli insegnanti della scuola Gramsci alla riapertura dell'istituto dopo le vacanze. Secondo i primi accertamenti del comune, due rubinetti lasciati aperti al piano superiore hanno causato le infiltrazioni d'acqua e il cedimento del controsoffitto che era stato rifatto appena due anni fa. I vigili del fuoco hanno già effettuato i primi rilievi ed è stato eliminato il controsoffitto pericolante. Ovviamente nella succursale oggi sono state sospese le lezioni e i bambini sono stati fatti tornare a casa. Una vicenda che va avanti da ben 11 anni, quella della scuola Gramsci di Bagheria. Come ricostruisce il comune, l'amministrazione nel 2006 aveva preso in affitto i locali della casa della fanciulla in attesa della ristrutturazione della scuola Gramsci. L'istituto nel 2006 era stato dichiarato pericolante e così gli alunni sono stati ospitati in due distinti edifici dell'Istituto delle Suole Cusmaniane, Casa della Fanciulla, in via Gaggini e in via Ugo Lamalfa. Lo scorso gennaio in un'altra classe era già venuto giù il controsoffitto, sempre nello stesso istituto. Anche allora non ci furono feriti. Oltre a sistemare rapidamente, valuteremo la possibilità di costituirci parte civile e presentare un esposto contro i responsabili, ha dichiarato il sindaco Patrizio Cinque.